Al nostro telegiornale questa mattina l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto ha confermato che anche in Sicilia le amministrative si svolgeranno il 12 giugno con eventuale ballottaggio domenica 26. Stamattina prima provvedimento dell'aggiunta di governo, poi decreto dell'assessorato per adempiere ai passaggi necessari a stabilire il tutto. Si sapeva da tempo che l'esecutivo Musumeci aspettava di conoscere l'indicazione proveniente da Roma per decidere una data che uniformasse anche la Sicilia con la convocazione degli elettori alle urne come nel resto d'Italia, d'eccezione della Valle d'Aosta dove si vota il 15 maggio. E questo malgrado lo statuto speciale conceda alla regione autonomia in tal senso, non necessariamente con i giorni stabiliti dal governo nazionale. La fase attuale caratterizzata da problemi vari, non ultimo quello della tensione bellica nell'est Europa, ha consigliato fino a questo punto di evitare determinazioni che andassero in ordine sparso. Il governo Draghi ha indicato dunque la stessa data del 12 anche per i sei quesiti referendari ammessi dalla Corte Costituzionale in materia di giustizia, si avvicina dunque l'Election Day. Sono poco meno di mille i comuni chiamati a rinnovare le cariche del sindaco e del Consiglio Comunale, 982 per l'esattezza in tutta Italia, 121 dei quali in Sicilia il 30% di tutti i comuni della nostra regione. Tra questi comuni c'è anche Sciacca, che è una delle dieci municipalità della provincia di Agrigento interessate dal voto. Le altre sono Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Cattolica Araclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Santa Margherita di Belice e Villa Franca Sicula. Nel palermetano si vota in 21 comuni, tra i quali Chiusa Sclafani, Bisacquino e Camporeale, ma si vota anche in due capologhi di provincia in Sicilia, ovvero sia Palermo e Messina. Adesso gli occhi sono puntati sul giorno in cui verranno presentate le liste, cosa che per legge va fatta tra il venticinquesimo e il trentesimo giorno antecedente, la data indicata per le consultazioni elettorali. La scadenza ultima per il deposito delle candidature nelle segreterie generali dei comuni non può essere successiva dunque al 18 maggio. A Sciacca ovviamente si guardava con interesse l'indicazione della data in cui si terranno le elezioni amministrative. Cinque anni fa, il primo turno fu l'11 giugno. La campagna elettorale per la verità qui è iniziata già da un pezzo, ad annunciare la sua candidatura ufficiale al momento è stato soltanto Agnazio Messina. Si attendono adesso le decisioni degli altri schieramenti in campo, anche se ufficialmente ci sono ancora più di 70 giorni dal giorno delle elezioni, 48 da quello in cui bisognerà presentare le candidature, quindi evidentemente c'è ancora tempo. È inevitabile tuttavia pensare che fino ad oggi le trattative hanno potuto procedere a scartamento ridotto, in attesa di fatti nuovi e soprattutto concreti. L'indicazione della data dell'elezione risponde sicuramente alle esigenze del caso e di tutta evidenza che da questo momento in poi tutti saranno chiamati a completare i negoziati per poi dedicarsi al vivo di una campagna elettorale che fino ad oggi ha visto protagonisti più inomide possibili aspiranti alla carica di primo cittadino che è i temi al centro delle prospettive della città di Sciacca.